Parliamo di Sledog, la Doco Cup, sponsorizzata dalla Spillers Food, campionato italiano di Sledog 96-97, prima gara 9-10, smettila di ridere, 9-10, eccolo qua. Siamo tornati in collegamento dal Barcluni per parlare di questo interessantissimo sport che tu hai pronunciato in una maniera... Fatti da fare i tuoi! Arriva il cappellino per far vedere come è scritto. Ah, molto bene, Doco Cup, dico bene? È andata bene. A questo punto vorrei che ci presentassero al nostro pubblico i nostri ospiti. Salve a tutti, sono Mauro Caputo, ci siamo visti qualche altra volta in televisione ai vostri studi, quest'oggi siamo in una veste un po' diverso dal solito. Siamo a Barcluni, comunque siamo nel dopogara diciamo, stiamo facendo vedere di cosa è stato capace oggi la Doco Cup. Ripasso il microfono. Mauro Caputo è mascher che tu non sai cosa vuol dire ed è stato un ottimo organizzatore di questo primo momento di Doco Cup, veramente un primo atto riuscitissimo. Tra un po' vedremo anche alcune immagini di questo momento particolarmente affollato da cani e anche oggi, malgrado la giornata non certo favorevole come temperatura e come movimento di pioggia, vedremo che cosa è successo e quanti erano gli intervenuti a questa prima gara. Posso chiedere dov'è Cush? Katia chiede dov'è Cush e naturalmente... Il mio cagnone, dov'è? Mauro Caputo? Vuol sapere dov'è questo spedio canale? A riposo, a riposo, al riposo del guerriero.